Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Una grave emorragia. Paura per il volto di Canale 5. Corsa in ospedale a meno di un mese dal parto. Un vero e proprio incubo improvviso per Claudia Dionigi, finita in ospedale a poche settimane dal parto. Meno di un mese fa ha avuto la gioia di diventare mamma e tutto stava procedendo nel migliore dei modi, grazie anche all'amore del suo inseparabile partner Lorenzo Riccardi. Ma gli ex uomini e donne hanno poi avuto un grosso spavento e qualche ora fa è stata lei stessa a raccontare tutto sui social network. Questo è il racconto di Claudia Dionigi. Ho avuto una disavventura. Ho avuto una brutta emorragia ma brutta. Non si fermava. Mi sono proprio spaventata tantissimo e sono andata al pronto soccorso. I medici mi hanno detto di stare tranquilla e che non dovevo preoccuparmi. Ho dei coaguli e dei rimasugli del parto. Quindi dovrò seguire una cura per liberare il tutto. Il peggio è passato comunque. Oggi mi godrò solo la mia bimba senza fare niente. Vi bacio. E fortunatamente le sue condizioni di salute sono adesso buone.